Benvenuti nella ITL, Individual Technical Lab. Sono Massimo Riga, il direttore tecnico del gruppo. Ritengo che nel basket sia necessario elaborare quelle che sono le immagini in movimento, perché il campo è grande, perché i giocatori si muovono sia in attacco che in difesa, perché si muove la palla, ma soprattutto perché mi muovo io. Le immagini sono molte, si trovano in diversi punti del nostro campo visivo e soprattutto si muovono con velocità e direzioni diverse. Tenere tutto sotto controllo non è facile e distinguere i movimenti degli oggetti e delle persone vicine e lontano da noi comunque richiede una grande visione periferica. L'allenamento che proponiamo con le light e con i pannelli visivi è un sistema di lavoro che ottimizza i tempi di apprendimento e soprattutto migliora quella che è la performanza sportiva. Inoltre aiuta l'allenatore ad analizzare l'atleta attraverso valutazioni in tempo reale. Sviluppare lavori di miglioramento individuale specifico durante la simulazione di reali situazioni di gioco. Il lavoro con le light e con i pannelli visivi si basa soprattutto su tre fattori. L'occhio vede, il cervello codifica e il corpo si muove. Sulla base di questi elementi abbiamo creato una serie di esercitazioni con e senza palla. Vogliamo allenare quindi in tempi rapidi alcune qualità come l'attenzione, l'elaborazione, la decisione, la coordinazione oculomanuale molto importante, la visione periferica e l'anticipazione visiva del gioco e soprattutto il gesto tecnico.